Un vasto incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio di lunedì 11 marzo a Val della Torre, in Borgata Buffa, non molto distante dal Val d'Hotel. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti. Sul posto sono intervenuti e stanno operando le squadre dei gruppi AIB di Givoletto, Val della Torre e Varisella. Secondo le prime informazioni pare che i punti di innesco siano diversi e questo accredita maggiormente l'ipotesi di incendio doloso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.